Noi serviamo un Dio incredibile, amèn. Serviamo un Dio incredibile, amèn. Dio è grande e da lodare grandemente. Forse qualcuno di voi si domanda perché siamo così entusiasti. Perché noi serviamo un Dio incredibile, tremendo. Ma tutto il canto, il battere le mani, l'urlare, è tutto in vano, se non lo conosci personalmente. La cosa più importante per noi è che voi abbiate la possibilità di conoscere Gesù personalmente. Voglio chiarire, specificare, non voglio che voi sappiate di Gesù. Ma lo devi conoscere per te stesso. Questo prossimo canto fa la domanda semplice. Conosci Gesù? E dopo che lo cantiamo, verrà Samuele, papà, e vi dirà come potete conoscere Gesù. E le parole saranno tradotte indietro. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Do you know Jesus? Does he live in your heart? When your life was troubled, Jesus still wants to be a part. Do you know Jesus? Does he live in your heart? Do you believe that he was born? Do you believe that he died? Do you believe your sins can be forgiven by the blue from his side? Do you believe his love can reach you right where you are? Do you know Jesus? Does he live in your heart? Oh, do you know Jesus? Does he live in your heart? When the song is over, when the music stops, do you know Jesus? Does he live in your heart? When your life was troubled, Jesus still wants to be a part. Do you know Jesus? Does he live in your heart? Do you believe that he was born? Do you believe that he died? Do you believe your sins can be forgiven by the blue from his side? Do you believe his love can reach you right where you are? Do you believe that he was born? Do you know Jesus? Does he live in your heart? Oh, do you know Jesus? Does he live in your heart? Ooh... ah ah Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti